Buongiorno, dobro jutro, guten morgen, bondi. Pari si contente vite si ha di voler ben e lasciare se vuole ben, perché non è facile. Perché l'altro può entrare dentro di noi, non viene di svegliere di tutti i pregiudizi che viene sui altri. E soprattutto viene di svegliere di spazzesi che viene sui riguardo, perché il rapporto con l'altro nasce sempre di povertà con l'altro. E allora ho visto come risposta ai nostri bisogni, e ho visto di svegliere di cosa, perché quando puoi entrare c'è molto caldo. E non è facile, non è facile accettare che altri come sono. Allora vedete che l'amore al faceremo con dolore, amore e dolore sono due frate di Gimui anche se non sono del stesso sacco e non sarà insegnato lui, cui che l'ho ben anche al patis. Buona giornata e buona vita! Grazie a tutti!